La squadra volante ha arrestato due giovani, entrambi 23 anni, un aquilano e un teramano, per rapina, lesioni e minaccia. Nella tarda serata di giovedì, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lita all'interno di un locale nel centro cittadino. In particolare, due giovani ubriachi avevano infastidito gli altri clienti, pretendendo anche di fumare all'interno del locale. Il titolare si era visto costretto ad intervenire per fargli uscire. I due però hanno inveito contro il titolare del locale e lo hanno minacciato di dar fuoco allo stabile. Usciti poi dal locale hanno aggredito un altro ragazzo senza alcun apparente motivo, colpendolo al volto con dei pugni, e gli hanno rubato il giubbotto nella cui tasca c'era il portafogli. La precisa descrizione degli aggressori resa dal giovane, coincidente anche con quella resa dal gestore e dalle persone presenti nel locale, ha consentito alla polizia di rintracciare i due ragazzi vicino al parco del Castello dell'Aquila. Per i due, a nulla è valso il tentativo di fuga alla vista dei poliziotti, sono stati infatti fermati e poi portati in questura. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati per rapina in concorso tra loro, nonché denunciati per lesioni e minacce.